Roma 8 novembre 2023 stati generali del vending siamo in compagnia di Mario Toniutti il vice presidente di Confida che intanto salutiamo ciao Mario bentornato buongiorno a voi buongiorno a voi che cosa si dirà in questi stati generali 2023 è la decima edizione ci sono tantissime cose di cui si andrà a parlare che cosa per quanto ti riguarda diciamo che il titolo è innovazione e sostenibilità per cui direi che questo è il focus degli stati generali di quest'anno per quello che mi riguarda a me gli argomenti principali che tratteremo sono questo tema veramente delicato delle PPVR del regolamento europeo sugli imballaggi che sta creando tante criticità al nostro settore piuttosto che di sostenibilità e quindi di tutte le attività sostenibili che fanno le aziende del vending ma anche di criticità nelle concessioni pubbliche quindi degli appalti pubblici di tutto quello che a seguito della crisi economica dopo la pandemia o comunque durante la pandemia che ha coinvolto soprattutto le ASL quindi cambiamento di abitudini, cambiamento di atteggiamento dentro gli stessi ospedali il problema vero è quello che purtroppo questi appalti vengono giudicati con un canone fisso e la perda del fatturato in questi clienti è di oltre il 40% anche dopo la pandemia In qualche caso addirittura si raggiunge la situazione paradossale di richiedere un canone che supera la presunzione di incasso dell'intero appalto Esatto, dell'intero appalto non si presume, addirittura c'è un obbligo da parte degli enti pubblici di indicare quale potrà essere l'incasso dell'intero appalto che sia quinquennale, triennale eccetera e lo dichiarano, quindi dichiarano appartamente che questo sarà l'incasso e dichiarano appartamente che partono da una base d'asta di canone più alto rispetto all'incasso una cosa che non si può vedere Mario, fino a pochi mesi fa si discuteva spessissimo del packaging legato alle palette, dei divieti legati all'utilizzo delle palette in polietilene oggi non se ne parla più, perché? Beh, credo perché la normativa sia stata discretamente chiara e quindi ci sono dei fornitori che danno queste palette biocompostabili e quindi una parte dei gestori stanno adoperando queste piuttosto che quelle di legno il tema comunque resta aperto perché purtroppo la tecnologia che c'è nel distributore automatico è molto delicata e quindi creare esattamente quello che riusciva a dare una paletta di plastica con un altro tipo di prodotto è molto complicato Mario Toniutti, vicepresidente di Confida, grazie, ne saprete di più nello speciale costituito dai tanti interventi, con le tante interviste che potrete vedere qui su VendinTV e sul nostro canale YouTube Mario Toniutti, grazie Grazie a voi, grazie